non accendo più la telecamera un po' perché negli ultimi eventi che mi hanno coinvolto mi rendo conto che l'unica cosa ferma sono le cose materiali dopo la scrittura della tesi dopo il ritrovamento di quelle vecchie fotografie a rullino mi rendo conto che l'unica cosa che registra è quella materiale tutto questo è molto più destinato a scomparire del resto e quello che però registra e voglio registrare è che giornate come queste sono un toccasiano per tutti pensavo a mio fratello mi spiaggia chissà come starà bene essere qui al mare con una giornata così tranquilla risparmiata dal caldo dove tutti possiamo riposare le nostre membra rilassarle oggi è una giornata al mare d'estate dove tutti possiamo tirare un sospiro di saliva dove possiamo respirare con un'aria fresca una brezza fresca e il sole che ci dà tregua che bello che giornata speciale è